Ciao a tutti amici orceani vicini e lontani. Oggi è il 6 luglio 2013 e ieri sera una ragazza si è gettata volontariamente dal ponte del fiume Olio. Non si conoscono ancora né le generalità della ragazza né le conseguenze del grave gesto. Giovedì 4 si è svolta la prima delle grandi manifestazioni che si terranno in paese nel mese di luglio. La folla delle grandi occasioni ha riempito la piazza per lo sbarazzo, dove i commercianti sotto lo slogan fuori tutto hanno venduto le loro merci direttamente e a prezzi da saldo sulle bancarelle, con un diretto contatto con la gente che ha apprezzato molto. Anche degli intraprendenti bambini ne hanno approfittato per mettere in vendita i loro fumetti. Facciamo loro i complimenti per il loro giovane spirito imprenditoriale. Giovedì 11 verrà celebrata la fondazione di Orzinuovi avvenuta 820 anni fa. Anche questa sarà un'altra ottima occasione per passare una splendida serata nella nostra meravigliosa piazza. Il programma vedrà una sfilata in costume tra giocoglieri e mangiafuoco e una chicca con la proiezione del film di Ettore Bonetti, L'Alba dei De Urcis, girato proprio 20 anni fa per la celebrazione dell'ottavo centenario della fondazione di Orzinuovi. Vi aspettiamo quindi tutti giovedì in piazza per la serata medievale organizzata dalla Proloco e vi terremo informati per tutti gli altri appuntamenti organizzati ad Orzinuovi nei giovedì di luglio. Ciao a tutti, alla prossima puntata del Tg Orsi. Allora, perché il teleurgo è anche nostro.